Approfittando della distrazione di alcune clienti del negozio di C&M di Corsitalia a Trieste, nella mattinata di martedì due donne di età di circa 30 anni sono state descritte come probabili zingare e hanno sottratto abilmente dalle borsette di alcune donne i portafogli. In due casi, oltre ai documenti e agli effetti personali, si sono impossessate dagli 80 ai 250 euro. Sul posto si è ricato un equipaggio della squadra volante della questura terrestina e le indagini sono in corso, soprattutto anche grazie aiutate ovviamente dalle telecamere presenti dentro il negozio.